Martedì 15 giugno 2021, il giorno prima dell'inizio degli esami di maturità nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid, nella splendida cornice del Giardino del Liceo Classico Pitagora di Crotone, organizzato dal Lions Club Crotone Host, si è tenuta la cerimonia di consegna del premio Bellusci, giunto ormai alla 26esima edizione. Alla cerimonia ha partecipato anche il gruppo teatrale del Liceo Pitagora Le Nuvole, guidato dalle docenti Cecilia Adamo e Angela Bifano. I premi sono stati consegnati dal dirigente scolastico Annunziata Galizia e dal professore Antonio Laterza, in veste di delegato dal Club Lions per l'organizzazione dell'evento. Gli alunni premiati sono stati Rotario Livia e Minico Cristina per la quinta A, Epifanio Emanuela e Villirillo Alessia per la quinta B, Megna Giuliano e Guadagnino Martina per la quinta C, Montesanti Sara e Marafioti Martina per la quinta D, Caparra Anne e Gallo Flavia per la quinta E, Labonia Linda e Bello Francesca per la quinta F.